Tiago Pinto è il nuovo direttore generale della Roma, il nuovo DS Gianlusso, da come si legge su web che va ad arrivare dopo la sua esperienza da Benfica, Freddick avrebbe optato per una delle promesse del calcio di licenzia a livello mondiale, un lavoro però in ombra, in piena ombra, che ha portato diversi minuti fa ad un comunicato proprio da parte del club Gianlusso. La S Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto in qualità di nuovo direttore generale. Tiago vi ricordo che, come avrebbe lo stesso detto Dan Friatkin, è un talento di livello mondiale. Nelle tante conversazioni infatti è apparso come un personaggio che ha una grande passione per il suo lavoro e la mentalità non incimilante ma anche motivata o meno orientata al successo sono coerenti con la nuova etica propria dell'AS Roma, della formazione di calcio per eccellenza presente nella città capitale Italia, Roma, la città capitolino. Vi ringrazio in primis per la visione, vi ringrazio in secondis per l'ascolto, il video termina qua, datemi le vostre opinioni, ci tengono da vedere, mi raccomando, un cordiale saluto a Napoli, al prossimo video da Gando, non ho dubbiato. Grazie.